ciao ragazzi buongiorno oggi nuovo video tutorial e andiamo a realizzare un accessorio per gli smartphone che va tantissimo di moda quest'anno è un accessorio decorativo che però è anche molto utile soprattutto in estate perché se come me vi ritrovate non avere una tasca dove mettere il telefono potete tenerlo grazie a questa catenina che andiamo a realizzare oggi come se fosse una borsa diciamo andiamo subito al tutorial vedrete che è molto molto semplice da realizzare e anche molto veloce dunque il materiale che ci serve per realizzare questa catenina tutta colorata è un filo colorato uno spago colorato abbastanza resistente delle perline colorate e anche delle perline con forme un po particolari con grandezze diverse dunque come prima cosa vado a scegliere un filo e lo taglio della grandezza che piace a me per quello che sarà il risultato finale della mia catenella io non la voglio troppo lunga e poi semplicemente vado ad infilare le perline all'interno del filo adesso io ho le perline con il foro molto strette quindi mi aiuto con un ago ma se le vostre perline hanno il foro più largo basterà infilarle anche direttamente con lo spago nel mio caso scelgo di mettere le perline con un ordine sparso e di colori differenti e ho deciso di inserire ogni dieci perline delle perline un po particolari quindi inserisco prima le mie dieci perline piccoline tonde con dei colori pastello dopodiché inserisco tre perline particolari quindi una trasparente una forma di coniglietto ed un'altra trasparente e poi reinserisco di nuovo altre dieci perline e questa volta aggiungo una perlina trasparente a forma di cuore non troppo grande continuo con questo procedimento appunto finché non ho deciso che la lunghezza della mia catenella è sufficiente ovviamente questo è molto soggettivo io come vi dicevo prima non la voglio troppo lunga una volta raggiunta la lunghezza che mi piace vado a fare un nodo con il filo e lascio parecchio spazio tra il nodo e le perline perché poi quello lì ci servirà per realizzare l'asola per il gancetto quindi faccio un nodo prendendo entrambi i fili anzi ne faccio due per sicurezza taglio il fine in eccesso poi vado a nascondere questo nodino all'interno di una perlina in questo modo non si vedrà la chiusura e nel mio caso ho scelto la perlina del coniglietto perché ha il foro più largo rispetto alle altre e ne nelle altre perline non entrerebbe spingo il resto delle perline in fondo in modo da creare l'asola quindi spingo in fondo tutte le perline e poi una volta che ho scelto dove posizionare la mia il mio gancettino anche qui vado a realizzare un nodino stando molto molto vicino alle perline questa volta e quindi cerco di stringere il più possibile appunto più vicino alle perline che riesco a questo punto per coprire questo nodino ma anche per decorare ancora un po la mia catenella aggiungo un orsettino un'altra perlina a forma di orsetto in modo appunto sia da coprire questo nodino che da chiudere meglio insomma la catenella e faccio un ultimo nodino per fissare questa volta l'orsetto ed ecco qua la nostra catenella è finita come avete visto è stato molto molto semplice realizzarlo e molto veloce il risultato finale mi sta piacendo un sacco per attaccarlo al vostro cellulare è molto semplice basterà prendere la vostra cover e scegliere uno dei forellini che sono attorno alla cover eventualmente si può utilizzare anche quella della fotocamera e se non volete usare i forellini fate come me però è meno sicura in questo caso e semplicemente appoggiate il filo all'interno della cover lo richiudete con il vostro telefono ecco qua il risultato finale come vi dicevo prima è un oggetto decorativo molto molto carino che va di moda quest'anno e se volete appunto potete tenerlo anche in mano con la vostra catenella quando non sapete dove appoggiarlo però in questo caso utilizzate i fori della cover perché è più sicuro e niente con questo è tutto io spero che il video vi sia piaciuto ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video perché qui adesso in estate non sarò proprio regolarissima fatemi sapere in un commento cosa ne pensate di questo oggetto o del tutorial e che cosa vorreste vedere nei prossimi video e niente ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao